I politici cercano di convincerci. Seligman significa colui che è felice. Quindi lei è felice? Beh, penso di sì. A modo mio. Anche se sono uno che taglia per prima le unghie della mano destra. Che significa? Ecco, io divido l'umanità in due gruppi. Quelli che tagliano prima le unghie della mano sinistra e quelli che tagliano prima le unghie della mano destra. La mia teoria è che le persone che tagliano prima le unghie della mano sinistra sono più spensierate, tendono a godersi di più la vita. Perché vanno dritti al compito facile e tengono le difficoltà per ultime. Lei cosa fa? Sempre prima la mano sinistra. Non penso ci sia scelta. Cercare sempre prima il piacere. Così quando si è finito con la mano sinistra non resta che la mano destra. E quella è la mano più facile. Non l'avevo mai vista così. Non si è mai troppo vecchi per imparare. E questa è la mano più facile. Grazie. Grazie.